Siamo con Paolo Giacchini, presidente del Comitato Cittadino di Istacciola. Quest'anno Paolo la crescita di Istacciola è entrata a far parte dei prodotti tipici regionali, ma è stato un lungo cammino? Esatto, è vero. Bisogna dire che ci è voluto molto impegno perché abbiamo dovuto contattare la regione Marchi. Questo anche grazie a un nostro collaboratore, qui lo spendo il nome, Sergio Montanari. Comunque alla fine siamo riusciti, abbiamo presentato una scheda tecnica che in pratica con il nome, la denominazione giusta, adesso la vado a leggere, che si chiama Crescia della Stacciola o Crescia Saint-Granach. Che è proprio legata alla sagra della Crescia nostra di Stacciola e quindi adesso a metà marzo la regione Marchi ha proprio emesso il decreto e quindi è ufficialmente entrata a far parte del prodotto tipico della regione e in più sarà iscritta anche nell'albo nazionale, qui leggo, dei prodotti tipici anche del Ministero delle Politiche Agricole. Per chi la volesse venire a assaggiare, quando può venire? Allora, per assaggiare la Crescia, come tutti gli anni, la sagra della Crescia viene svolta il primo sabato e la prima domenica d'agosto. In particolare quest'anno viene il sabato 2 agosto e domenica 3 agosto. Tra l'altro voglio ricordare che non c'è solo la Crescia ma abbiamo anche un altro prodotto tipico, adesso lo menziono, che sono le cristaiate di grano turco, che sono una specie, una pasta tipo mal tagliati, fatta con la farina di grano turco e condita con il ragù, ragù fatto sempre da noi, fatto tutto a mano. Con la partecipazione di un centinaio di collaboratori, tutti volontari, tutti i lavoratori volontari che in pratica ci danno una mano per far riuscire questa bellissima festa. Quindi qual è il segreto di questa Crescia così ormai famosa? Il segreto è che è un prodotto buono e che in pratica riscopre le vecchie tradizioni locali. Come volevo ricordare la Crescia era utilizzata come prodotto impasto del pane per controllare la temperatura dei forni. Qui nel borgo una volta si faceva tutto il pane in casa, quindi veniva cotto in un forno comunale pubblico, che quindi una volta alla settimana, una volta o due alla settimana, i cittadini di abitanti di questa Crescia cuocevano il pane lì. Per provare e controllare la temperatura giusta, cuocevano prima una specie di focaccia che utilizzando questo impasto, e quindi in pratica è nata da lì la Crescia. Questo forno poi è rimasto fermo per molti anni perché non si cuoceva più il pane. Poi è venuta e nata l'idea da parte di qui, dei cittadini, ma di alcuni ragazzi di Staciola, di riscoprire un po' questa vecchia recente, quindi hanno in pratica organizzato la Sagra della Crescia, che proprio il primo anno è stato nel 1987. E quell'anno lì hanno utilizzato solo quel forno, hanno fatto circa mille cresce, però non sono arrivate quasi da nessuna parte, diciamo. E dopo, vabbè, negli anni si sono costruiti altri forni, quindi la gente, i partecipanti sono stati tanti, ed oggi, dalle mille cresce di una volta, oggi ne produciamo, ne sforniamo più di diecimila. E qui, diciamo, il segreto è la bontà, la fragranza di questa Crescia, cotta, cioè sfornata e appena mangiata. E poi dopo tutta la, diciamo, la storia che c'è dietro, cioè il modo di prepararla, i forni, il tipo di legna che viene usata per riscaldare, che sono solo e esclusivamente tralci dei viti. E basta, solo quelle sono. E quindi da lì viene fuori un prodotto ottimo, buono, e tra l'altro bisogna ricordare che la Crescia si può mangiare anche così, semplicemente condita con rosmarino e cipolla, però poi uno lo può chiedere anche farcita, quindi si farcisce con prosciutto, salsiccia, erba. Quindi, niente, anche quest'anno vi invito tutti a partecipare il 2 e il 3 agosto alla 28esima Sagra della Crescia. Quindi partecipate numerosi! Grazie a tutti!